Vero Dragoni, la situazione qual è? L'istituzione al Ministero dello Sviluppo, della cabina di regia che dovrebbe occuparsi delle vertenze aziendali, ci sono almeno 160 vertenze come anche l'Electrolux e almeno 18 mila posti di lavoro a rischio, è finita sul binario morto. E anche il famoso decreto Destinazione Italia per attirare investimenti da tutto il mondo è sommerso di emendamenti e rischia di non essere convertito in legge in tempo, decade infatti tra pochi giorni, il 22 febbraio, è una corsa contro il tempo anche per convertire in legge il decreto che abolisce il finanziamento diretto dello Stato ai partiti politici. Questa è una delle prime riforme che l'ETA ha annunciato, l'aveva detto in maggio addirittura, ma se decade slitterà di almeno un anno questa riforma. Poi anche l'abolizione delle province è in ritardo, in commissione al Senato ci sono 3 mila emendamenti che la schiacciano e il rischio è, come ha dichiarato il Ministro del Rio, di perdere i risparmi previsti per quest'anno perché tra poco ci saranno tutte le elezioni provinciali e quindi perderemo anche questi risparmi. L'ETA e Saccomanni però vedono rosa e insistono sul fatto che per l'ultimo trimestre 2013 il PIL per la prima volta dopo anni sarebbe positivo, più 0,3%, il dato non è ancora però ufficiale, definitivo. Peccato però che le loro previsioni di crescita per quest'anno del PIL, cioè dell'1%, siano già state corrette al ribasso un po' da tutti, dall'Ox, dalla Banca d'Italia, dall'Unione Europea. E anche da loro, insomma. E adesso è arrivato il Fondo Monetario che pochi giorni fa ha alzato di 1,01%, quindi non nulla, la previsione di crescita del PIL mondiale, però ha abbassato dello 0,1%, indovinate che cosa? La previsione del PIL italiano, solo allo 0,6%. Allora l'ETA dirà che anche il Fondo Monetario è disfattista?